Eccoci con un'altra guida su una magia che appena la vedete, la dovete prendere, perché è fenomenale. Sto parlando della Cloudburst Arc Torrent of Showers. Lo so, è una marea di nomi diversi. Sono due le cose importanti per riconoscere. Arc Torrent nel titolo e nella parte bassa della descrizione invoca una saetta che piove dal cielo. Fine. Guardate quello che fa. A differenza delle altre Arc Torrent che sparano una palla di energia in avanti, questa genera fulmini che colpiranno tutti i nemici vicini al mirino. Vi faccio notare che sto shottando, nonostante la mia build, sia uno stilomante berserker al momento e soprattutto è blu con 7 di ricarica, 4 cariche. Insomma, potete ben capire quanto questa magia sia fenomenale. È assolutamente fantastica. Se la riuscite a trovare su uno sparamagie, veramente riuscirete a fare il devasto perché continuerete a spammarle, a spammarle, a spammarla. Sulle altre classi è semplicemente fortissima. Che comunque è più che sufficiente. Io sono contento. Speriamo che le magie leggendarie di questo gioco riescano a tenere testa queste magie comuni che sono comunque imbattibili o quasi. Wow. Ciao. 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 Ciao.